Ci mandiamo anche di tutti i datori, di chi crede in un servizio sanitario nazionale su base del efficace. Noi vogliamo mandare un messaggio chiaro. Questo decreto va ritirato, crea solo conflittualità tra medici e pazienti, tra il mondo sanitario e pazienti e deve essere riscritto in maniera corretta. Cioè significa coinvolgendo tutti gli attori sanitari e i cittadini alla costruzione di questo decreto. Sì, il decreto va assolutamente ritirato perché è profondamente inico ed è ipocrita, perché spaccia per appropriatezza quella che è l'ennesima misura di razionamento ai costi e alla possibilità di accesso alle cure dei cittadini. Il decreto appropriatezza è arrivato in un momento completamente lontano da quello che sono i bisogni dei cittadini. Occorre chiarezza, occorre una convocazione reale di tutti i soggetti che devono, come dire, in un qualche modo fare i conti con il servizio sanitario nazionale che sta a cuore a tutti. ai cittadini. In particolare la Tegola ha determinato un momento di grande confusione e dover assistere ad una condizione di ritorno indietro, sembrerebbe quasi, rispetto al criterio fondante che il principio legislativo o altro fosse centrato sulla figura del paziente, dell'utente, del cittadino. Abbiamo creato addirittura un sito che è sosappropriatezza-cittadinanzattiva.it che è stato da subito indicato quale raccolta civica nazionale ma regionale anche per quanto attiene questo decreto. ci associamo a tutti coloro che chiedono subito il ripristino di una condizione possibile, quindi il ritiro di questo decreto. Per quanto riguarda il decreto di appropriatezza, naturalmente condividiamo la strada alla scelta dei medici, ma noi preferiamo anche parlare di appropriatezza professionale e appropriatezza organizzativa, perché quando parliamo di questo sicuramente parliamo di standard elevati, di qualità assistenziale e perché no nuovi modelli assistenziali che la professione quindi suggerisce e sta portando avanti alla politica o agli organi competenti per dare veramente risposta ai cittadini in maniera sicura ed adeguata. Non sempre fare di più significa fare meglio.